Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake goloso al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, olio di semi di girasole, latte, vanillina, farina di tipo 00, fecola di patate, cacao amaro, gran marnier che è facoltativo, lievito per dolci, granella di nocciole, gocce di cioccolato fondente. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame, aggiungere le uova, e le facciamo montare per 10 minuti a 37 gradi a velocità 4. Aggiungere l'olio. il latte ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. togliere la farfalla aggiungere la farina il gran marnier la fecola la vanillina il cacao amaro e il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. aggiungere la granella di nocciole le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 30 secondi antiorario velocità 2 il composto è pronto trasferirlo in uno stampo da plum cake da 28 x 12 cm ben imburrato cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa fare sempre la prova a stecchino il plum cake è cotto lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo plum cake goloso al cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie